E' arrivato dunque, arriva in Friuli anche quest'ora, tanto atteso, grandissima la gioia, Flavio! Ma la speravo fino all'ultimo, ci ha fatto soffrire come ieri, però sono stati grandissimi, quattro locomotive in campo, forti, forti, forti! Complimenti, complimenti! Elena, Elena, anche lei veloce commento, insomma, gioia immensa! Una gioia immensa che noi speravamo, sognavamo, ma mai avremmo creduto che sarebbe arrivata così in maniera impetuosa. Come mi hanno chiesto in tanti come ti senti, travolta in un vortice di emozioni incredibili. Io ringrazio Jonathan, prima di tutto, che ce le ha permesse di vivere, e ringrazio questi ragazzi che sono stati fantastici. E vi posso garantire, perché ho avuto modo di conoscere, che anche il team della Nazionale Italiana è fantastico, seguono e vogliono bene i nostri ragazzi, come fossero loro figli. Anche qui il team a buia, però, è di una forza incredibile! Un paese fantastico che si è abbracciato attorno a noi, quindi festa più bella, non poteva essere. Grazie!